Ciao a tutti quanti e benvenuti nel nostro nuovo box CrossFit Ketsui 2.0 Facciamo un giro insieme e vi mostro tutte le parti e le particolarità del nostro bellissimo e nuovissimo box targato Kingsbox Da questa parte potete vedere il nostro nuovo rig di colore rosso, il nostro colore preferito con otto postazioni Noi facciamo classi da dieci persone al massimo per poter dare a tutti quanti la stessa qualità e monitorarli e correggerli nel loro movimento La particolarità del nostro box è che è diviso in tre parti La prima parte dove svolgeremo le classi di CrossFit Vi porto adesso nella seconda parte Questa è la zona dell'open gym o open box dove la gente può venire ad allenarsi durante le classi di CrossFit Abbiamo allestito con consiglio di Kingsbox un rack con una postazione alta 4,5 metri in maniera tale che gli atleti che si alluminano qua Hanno la possibilità di svolgere tutti gli esercizi possibili Tutte le parti, quindi l'open gym, la parte di CrossFit, delle classi sono autosufficienti, indipendenti Hanno tutto il materiale targato Kingsbox dal bilanciere ai bumper, ai kettlebell, ai dumbbell, tutto quanto sono autonomi E l'ultima parte che è la specialità di questo box perché ospitiamo anche una società di sollevamento pesi Abbiamo qui in fondo allestito una pedana di WL con tre pedane targate Kingsbox Qui i nostri affiliati potranno venire e allenarsi nella materia specifica che è il sollevamento pesi Nell'angolo qui invece sarà la parte dedicata soprattutto al mono strutturale, al cardio Quindi abbiamo i nostri rover, abbiamo le hustle bike Dall'altra parte, alla fine, dietro tutta questa bellezza abbiamo la lounge Che è ancora in allestimento perché è tempo per aprire Dove avremo una televisione, un tavolo, un posto infatti dove i nostri affiliati potranno creare questa community Che è il punto forte dei box di CrossFit Vi aspettiamo, grazie mille Grazie a tutti